Bellissima manifestazione oggi all'Aibin a Pescara con una gara fra i nonni, che i nonni abbiamo sempre detto sono la base di tutte le famiglie e sono persone che quando vanno in cucina esprimono al massimo il meglio perché loro hanno il ricordo anche della povertà. Con pochi ingredienti hanno fatto dei piatti che ci ricordano i tempi di una volta, con sapori, odori e profumi che ci siamo quasi dimenticati. Quindi un grande applauso oggi a Paolo Minucci che ha deciso di fare questa gara dedicata ai nonni e anche qualche nipote che era presente. E i piatti, la sfida è stata molto dura, che c'erano 4 o 5 piatti che erano tutti al primo posto. Ha vinto uno che è un piatto tipico abruzzese, la pallotte cacee uva. Quindi tanto di cappello però a tutti perché effettivamente hanno portato prodotti di alta qualità. Il tondino del tavo, hanno portato i peperoni cruschi di Altino, hanno portato le lenticchie di Santo Stefano. Insomma prodotti tutti eccezionali, tutti prodotti a chilometro zero. Viva i nonni, viva l'Abruzzo e grazie qui ai BIN, a Ieroie che ci ha ospitati.